Partiamo con una premessa, è un mese che sono senza voce praticamente, quindi questo è assolutamente lo speech che fa per me. Mazza quanti siete? Non avevo realizzato che c'era così tanta gente. Soprattutto quando siete senza voce, come me, il microfono è un validissimo alleato. Io però non sono una fonica, anche se ho il fonico personale, non sono una vocal coach, sono una persona che usa i microfoni e come molti di voi sono una persona che spesso va ad ascoltare conferenze e che tante volte sente queste cose qua, oppure queste cose qua, che non si capisce niente. Per cui mi perdo la metà degli interventi perché i microfoni non sono utilizzati bene. Allora ho detto, ma perché insomma non facciamo uno speech che parla proprio di questa cosa? Sono consigli miei, non sono cose, insomma ho cercato di dire anche qualcosa di tecnico ma sarà sicuramente inesatto. Per cui se ci sono dei tecnici veri in sala ritratto tutto e non è colpa mia, è colpa del fonico. Allora, cominciamo a parlare dello strumento, una piccola panoramica sulle varie tipi di microfoni. Un microfono può essere dinamico o direzionale, quello con cui sto parlando adesso dovrebbe essere dinamico o direzionale. E sono microfoni che hanno, prendono praticamente la voce qui davanti, solamente di fronte. Può essere cardioide, supercardioide, ipercardioide, ce l'ho fatta. I disegnini li abbiamo fatti noi a casa, per cui insomma, però per darvi un'idea di quanta voce prende, di quanta parte del microfono prende la voce. Fate conto che un cardioide raccoglie il suono fino a circa due metri e un ipercardioide circa mezzo metro. Questo vi permette di parlare senza che ci siano dei rumori di fondo, non so, una penna che sbatte, rumori strani che ci possono essere. Andando avanti, grazie, fai tu. C'è il microfono a condensatore, sono quelli che vengono utilizzati solitamente nelle radio, ne parleremo poi meglio anche dopo, oppure non so se c'è bisogno di avere diversi speaker che parlano a una distanza più grande. Questo prende ovviamente molto più suono, perché lo prende oltre che da sopra, anche dai lati. Vedete che c'è il ragnetto, perché proprio per il fatto che prende più suono, il ragno è questa cosa qui, prende anche le vibrazioni, quindi soprattutto nelle radio si cerca di attutire questa cosa. E poi c'è l'ultimo, che non c'ho la foto, però ce l'ho scritto, che è il panoramico omnidirezionale, che viene utilizzato solitamente per prendere degli audio ambientali. Non ci interessa perché è una cosa che non viene utilizzata, confermi Fabrizio, non deve essere utilizzata per parlare, altrimenti è un disastro, non si capisce niente, nel senso che prenderebbe anche le persone che parlano là in fondo e non si capirebbe più nulla. Invece andando a vedere dal punto di vista formale della forma del microfono, abbiamo l'odiato microfono da conferenza. Perché odiato? Perché se non state così, esattamente davanti, non si capisce più niente. Ma c'è un motivo. Se vi siete trovati a fare una conferenza qualche volta, ci siete voi, che magari avete studiato dieci, quindici giorni, avete preparato lo speech, avete fatto le prove e accanto avete cinque, sei, sette persone che si fanno gli affaracci loro, parlano, usano il telefono, si guardano i video, sbattono con la penna. Questo microfono vi tutela da tutte queste cose. Non vi tutela dall'uso sbagliato però, perché sempre se voi vi girate non si sente più niente. E quindi anche in questo caso dovete tenerlo sempre assolutamente di fronte. Se vi girate, vi girate e poi ritornate a parlare davanti al microfono. Se fate caso, infatti, nei pulpiti dei politici ce ne sono due, così loro almeno possono girarsi un po' di qua e un po' di là e continuare a parlare. Quello che invece va benissimo per tutti è l'archetto. Alessandra, che peccato. Volevo l'archetto. Volevi l'archetto oggi, sarebbe stato eccezionale. Perché? Perché l'archetto vi permette veramente di essere liberi, di gesticolare, di muovervi. Viene posizionato normalmente o di fronte alla bocca oppure a volte anche solo appoggiato alla guancia perché basta in realtà anche solo la vibrazione. Il suono va automaticamente al microfono e voi non ve ne dovete preoccupare. Vi dovete preoccupare se è wireless che abbia le pile e se non è wireless di non inciampare nel filo del... perché altrimenti se ne va tutto il ben fatto. Subito sotto l'archetto abbiamo il lavalier. Alessandra lo conosce benissimo e vi potrà confermare che con il lavalier bisogna stare attenti alle collane. infatti... perché la collana fa... e quindi parlate e se vi muovete rischiate che succede questa cosa oppure anche una cosa del genere. Dovete stare attenti che non vi ci si giri sopra il bavero della camicia però in realtà anche con il lavalier è molto... è molto facile parlare. Non dovete preoccuparvi più di tanto. Chiaramente se il lavalier ce l'avete più o meno qui adesso questo prende meno e parlate da questa parte ancora un'altra volta non si sente. Andando avanti... ah del lavalier e dell'archetto dovete tenere conto che hanno un raggio d'azione. Quindi se da qui... ma questo vale anche per il gelato se è wireless ve ne andate a parlare in spiaggia molto probabilmente non si sentirà più nulla. Invece andando avanti abbiamo il microfono fisso, quello di cui vi parlavamo prima. Sono quelli che vengono utilizzati su... non so... negli studi radiofonici se magari siete più di un ospite a dover parlare oppure anche su un palco potrebbe capitare di avere un microfono di questo tipo. Sono microfoni che hanno appunto... prendono più suono quindi state attenti ai rumori molesti che fate o che fanno le persone che sono attorno a voi ma soprattutto state attenti a dove dirigete il suono perché se io con un microfono che ho io posso girare dove voglio e bene o male parlo e mi sentite nel momento in cui il microfono è fermo non ho la possibilità di portarlo alla mia bocca e quindi sarà il suono della mia voce che deve arrivare al microfono ma questa è la pillola che ho tenuto per il finale. l'ultimo... scusate... il gelato questo sconosciuto che ovviamente non si mangia però le persone lo usano assolutamente a sproposito ci sono talmente tanti modi in cui viene usato male questo microfono che ho deciso di parlare di questo e quindi partiamo da cosa non è cosa non è? questo microfono somiglia molto ma non è non è un tamburello non lo dobbiamo usare per suonare non serve a questo non è uno strumento musicale è uno strumento che ci serve per diffondere la nostra voce e poi ancora non è? non è uno stetoscopio sicuramente avrete visto persone che lo tengono qui e poi magari parlano così perché altrimenti non si capisce e sentite che insomma la cosa è abbastanza ridicola ma non è il cuore che si deve sentire è la vostra voce quindi questa è la posizione in cui va tenuto il microfono seguendo la bocca seguendo la direzione della vostra voce non è una bacchetta magica quindi non devo indicare le slide non devo indicare nessuno di voi non devo fare nulla di tutto questo e più o meno ancora non è nemmeno un aspersorio non mi interessa benedire le persone con il microfono non esce niente chiamiamo qualcuno che possa farlo che sia più competente usiamolo sempre per parlare e infine lo so che ci somiglia tantissimo ma il microfono non è uno strumento di piacere questo ci assomiglia veramente tanto effettivamente avrete sicuramente visto tutti le persone che hanno un rapporto vicinissimo con il microfono con cui parlano che lo tengono proprio attaccato attaccato con la bocca appoggiata che parlano addirittura con la bocca appoggiata allora è antigenico perché comunque qualche sputazzo c'è sempre quindi per rispetto a chi ha parlato prima a voi e a chi parla dopo per favore no anche no questi sono che cosa non è il microfono e vediamo invece quali sono gli errori più comuni quelli da non fare ma quelli che normalmente tutti hanno fatto anch'io perché tanto alla fine capita succede allora cosa non bisogna fare non bisogna parlare troppo piano perché per quanto per quanto siate amplificati se parlate troppo piano non si sente non bisogna neanche urlare perché se no fate saltare i timpani alle persone cercate di sentire cosa esce dalle casse regolatevi in un volume che possa andare più o meno bene e poi andate avanti ancora cosa non bisogna fare non rispettare il volume della prova se avete la fortuna di fare una prova microfono con un fonico che magari vi equalizza anche la voce è inutile che facciate la prova così prova 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 poi quando andate a parlare buongiorno a tutti spaccate i timpani stessa cosa al contrario è molto importante insomma quindi cercare di mantenere una linea che sia sempre quella e ancora questo non ve lo faccio vedere tanto lo sapete tutti cosa succede quando si posiziona il microfono davanti alle casse quindi passiamo pure oltre credo che comunque l'immagine rendeva bene non dimenticatevi di avere in mano un microfono è vero che ci piace gesticolare ma se gesticoliamo mentre parliamo non si sente quindi tenete presente che ce l'avete il microfono è una parte del vostro speech in quel momento fa parte della vostra voce quindi è molto importante sapere dov'è e sapere che c'è questo alla fine forse è il consiglio principale per tutti e poi accompagnate appunto i movimenti della testa cioè se mi giro il microfono si gira con me sempre perché se no come sentite sentite solo delle cose indistinte che non si capisce assolutamente niente mentre sentite com'è più bello così che si sente bene questi erano gli errori più comuni l'ultimo consiglio allora l'ultimo consiglio è sarebbe stato da fare tutto senza microfono questo il portato è l'intenzione di far arrivare la nostra voce esattamente dove deve arrivare questo è una lezione di un grandissimo insegnante di canto che ho avuto la fortuna di conoscere la nostra voce deve arrivare dalle persone o comunque nel luogo dove la vogliamo mandare questo vale anche per il discorso del microfono radiofonico per esempio noi dobbiamo avere presente un punto e con la nostra intenzione mandare la voce potrebbe essere potrebbe essere che non abbiamo un microfono però io ho piacere che mi sentiate in fondo allora la mia intenzione deve arrivare in fondo se io parlo per me in fondo mi sentite meno ma se io mando l'intenzione mi sentite meglio avete sentito una differenza poca forse e questo probabilmente dipende anche dalle mie condizioni però non ho cambiato il volume è cambiata solamente quella per cui attenzione concentrazione consapevolezza il microfono c'è grazie al microfono e grazie a voi grazie Deborah